Sono in pieno svolgimento a Pordenone i lavori per riqualificare l'area della festa in piazza, l'importante centro sportivo aggregativo nel quartiere Villanova. La sistemazione dovrebbe concludersi a fine marzo o aprile, salvo imprevisti e lockdown che bloccano le opere. Un intervento molto atteso per il quartiere Villanova. Il quartiere di Pordenone non sono solamente degli aggregati urbani, sono delle vere e proprie comunità che vivono e lavorano all'interno di questi spazi. In questo caso significa dare risposta a diverse esigenze, quelle di carattere ricreativo, quelle di carattere sportivo, ma anche mettere in rete, mettere a sistema tante le vere che compongono questa comunità, il mondo della scuola, il centro anziani e le popolazioni che ci vive. Era necessario perché dopo tanti anni ovviamente le strutture cominciano a deperire, quindi c'è non solo un ampliamento ma una riqualificazione complessiva. In sopralluogo al cantiere anche l'assessore De Bortoli. La festa in piazza dopo tanti anni aveva necessità di riorganizzarsi perché è cresciuta molto anche nel mondo sportivo e nel mondo aggregativo. Allora questa amministrazione fortissimamente ha voluto incidere in questo territorio, in questa struttura in modo particolare, proprio per portare alla comunità un punto di riferimento fondamentale, funzionale e importante sia nello sport sia nell'aggregazione. L'opera era attesa da tempo dall'associazione che gestisce l'area. Dopo tanti anni siamo grati di questo intervento, interventi che sono fondamentali per il quartiere, appunto nell'aspetto non solo sportivo e recreativo ma sociale e culturale.